Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPILIP. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni e possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. L'accordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via Faenza fino al 10 aprile di vieto di transito nel tratto via Nazionale via Cennini. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!